Questa è la serata inaugurale della mostra di Ned Skolokov alla Fondazione Galleria Civica d'Arte Contemporanea di Trento. È una splendida serata che corona degnamente una grande mostra e tutto questo grazie a tutti gli sponsor che hanno voluto aiutare, sostenere e contribuire all'ottima realizzazione della mostra alla Fondazione Galleria Civica di Trento. Ovviamente ringrazio per l'ottima riuscita dell'iniziativa tutti i nostri sponsor e in particolar modo la squadra di calcio femminile Real Bardolino. Siamo a Locanda Margon insieme a direttori di museo, curatori, collezionisti e un'altra importante tappa nella storia della Fondazione Galleria Civica, una fondazione che nasce la prima in Italia nella creazione di un connubio tra pubblico e privato, tra i soci fondatori, tra cui il Comune di Trento ma anche un pool di imprenditori e di professionisti della città di Trento e le migliori forze che su questo territorio e nei territori limitrofi lavorano per portare l'arte contemporanea in dialogo con la società civile, con il pubblico degli appassionati, con quei pubblici potenziali che si interessano di cultura in generale e che grazie anche a queste attività possono, noi speriamo, avvicinarsi all'arte contemporanea. Sono veramente felice di essere qua in questa bellissima occasione per l'opening di Ned Kosolokov, artista eccezionale bulgaro e di fama internazionale con Fondazione Galleria Civica, Locanda Margona, Real Bardolino, main sponsor per festeggiare tutti insieme in un'occasione speciale. Siamo qui questa sera per la cena della Fondazione Galleria Civica di Trento sponsorizzandola e omaggiando tutti gli ospiti con dei piccoli omaggi natalizi facendo gustare i nostri prodotti in attesa di un risponso per il Natale. Anche in occasione di questa mostra di Galleria Civica è stato un piacere per Locanda Margona ospitare una cena e questa party post-mostra in cui abbiamo insieme potuto brindare con Bollicine Ferrari. Noi come famiglia Lunelli siamo vicini alla Galleria Civica da molti anni mio zio è stato uno dei fondatori e quindi ci piace stare vicino al mondo dell'arte Galleria Civica a Trento è un promotore dell'arte contemporanea da molti anni e quindi ci fa molto piacere poter appoggiare questa iniziativa. Ci siamo sentiti di fare questo connubio con la Fondazione Galleria Civica di Trento proprio perché Galleria Civica intenta a recepire quelle che sono le novità e i nuovi artisti che sono sul mercato e così allo stesso modo facciamo noi nel campo degli investimenti. Ci fa molto piacere essere stati invitati anche noi a questa partecipazione, questo convivio in questo bellissimo posto in questo paradiso se vogliamo chiamarlo del Trentino. La Fondazione Civica di Trento ci ha preso così alla sprovvista però siamo ben felici di aver collaborato collaborato in tutti i sensi a questa bella riuscita di questa serata ed avere un attimino anche intrapreso una collaborazione che ci auguriamo che nel tempo abbia più spazio si ampli ancora di più e magari apri anche nuovi orizzonti su quello che è la cultura e la conoscenza di certe nozioni che riguarda questo sport quale è il calcio femminile.